La combo perfetta para empezar, peeling olimandelico, suero bioestimolador e vitamina A, C e F. La nostra forza è il peeling, che in inglese vuol dire pelare, andiamo a pelare via il primo strato di cellule morte, i principi attivi che andiamo a mettere dopo precipiteranno nel derma e continueranno a lavorare anche nei giorni successivi. Cara Quello, i tambiene scoppe, vamos a empezar. peeling olimandelico, 9 vestito, lo voglio ammettere con le mani per dimostrarvi che non pizzica, non c'è nessun tipo di problema. Facciamo attenzione se abbiamo qualche punto sensibile, che possono essere le alette del naso, il contorno delle labbra, cerchiamo di non metterlo in questi punti sensibili. Facciamo attenzione in tutte le superfici del labbra, evitiamo un po' le labbra, chiaramente. E se non abbiamo arrugati al reddore dei occhi, intentiamo andare a lo largo. bene, in tutti, siamo listi. E facciamo bene le mani, e se è il vostro primo tratamento, dejiamo il peeling unos 10-15 minuti, per vedere anche che reazione tiene la pelle. Puoi cominciare a picare un po' di formicolio, ma è normale, si è stabilizzato dopo un ratito. Se non è la vostra prima applicazione, potete anche lasciarlo un 35-40 minuti, specialmente dopo il verano, per che il suo lavoro sia a massa effettivo. E possiamo lasciarlo sul viso, se è la vostra prima applicazione, un 10-15 minuti, per vedere come risponde la pelle. Potete anche lasciarlo un 35-40 minuti. La nostra combo, filling olimandelico, siero biostimulatore, vitamine ACF, e per finire, finiremo con crema protetta. Aspettiamo il tempo di posa. A dopo! Quindi, chicos, è passato per me 25 minuti, e se è assorbito completamente, vado ad acclarare con acqua fria o sibia, non caliente. Sciacquiamo con acqua fredda o siepida, non calda. Allora, la sensazione è di una pelle notevolmente pulita, limpia, perché il peace ha bacato mucho. Ora, vamo a restabelecer con il biostimulatore. Biostimulatore. Questo è nuovo. Si nota mucho, eh? Notevolmente, ma brillante. La pelle risulta molto più brillante e pulita, molto pulita. Non hace falta mucho, massaggiamo mirando hacia arriba. Massaggiamo, 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 hasta che sia completamente secca la piel. Massaggiamo, 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 massaggiamo. Desde abajo, pa'arriva. Desde abajo, pa'arriva. Abrimos, abrimos. Esa ojera. De dentro, hacia arriba. De dentro, hacia arriba. Gli occhi. Abriamo questo sguardo un po'. Allargate il massaggio fino al cuoio capelluto. Si stai facendo questo trattamento, che poi non teni che fare nulla. Se vai a limpiar il pelo. Se vai a la peluqueria. Intentate trattare questa piel, fino al cuoio capelluto. Perché qui hai molti receptori, molti nervi. E... 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 ma! il cuore, l'occhio dell'accia, all'accia, 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 piacerebbe la vitamina. Per è 9, una gota, questo os amatrici, questo è il passaggio, è molti pesanti, è una pelle totalmente suave, è molto, molto grasso, però è meraviglioso. subiamo per riva e per riva questo suero è meraviglioso perché permette un massaggio forte questo suero è fantastico perché permette un massaggio attivo che riattivi bene la circolazione e saliamo gli zigomi adesso di dentro si arriva, si affuera altro lato ojo 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 anche possiamo andare nel palpato e seguiamo il cuore il cuore il cuore altro lato il cuore 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 anche nelle giornate anche se non siamo esposti alla luce direttamente sempre mettiamo una crema protettiva e protetta è fantastica guardate che meraviglioso come è cambiata la pelle dall'inizio a ora e niente questo è il risultato spero vi sia piaciuto vi metto nel link del video tutti i prodotti, utilizzate il codice desconto SIMONA, lo voy a linkar in los dos idiomas. Muchas gracias, passate un buon día. Un consiglio, sacate una foto de vuestra cara, un selfie, antes de empezar il primo tratamento. Os darai cuenta, in una semana, 10 dias, che vuestra piel sta cambiando totalmente. Buon día.